...con un piccolo nello spagna, manipolatori, ipofrici, assetati di gloria, limitati, per inchiudere sottociammi, mezzi strampalati, psicotici, zodici, psicotici, puncati, sorghientoni e fissati con la testa, spazi. Sono stata più che fortunata a incontrare 5 persone sane di mente. Una cosa per cui sarò ricordato è... E' arrivato il momento di dare il benvenuto ai denti capeggiatori che non sono arrivati in finale. Loro che hanno attraversato il mondo della vergogna per passare l'isola con la pasta del 30 anni.